Terra partono, li mette in riga, tanto Renato è un ottimo mossiere anche di palio quindi metterli in fila per lui, a parte le gabbie e la regola, e vediamo già da sinistra Sara Edora Giulia e dietro Eva, questo quartetto al femminile che completa l'esame davanti alle tribune, tre in linea, insieme sul palo, senza verba agonistica, ma giusto per finire un esame Ed ora ecco anche Eva